se non baghi dici tu arrivai a stare a vedere come stai a vedere no devi dargli sempre a pità grazie al cazzo prima la porto la vicino eh? prima la porto la vicino Lorenzi ma la peta è affidabile? la peta qui c'è solo il maestro dagli fuori forse forse che forse se piccia no è un piccolo problemino che bisogna piccolo problemino di concorrenza ehm più che problemino mi sembra un problema se c'è la Nicola America mi dice portilo via su Ganguru porca me quando Babbo gli portava la 126 no? quando Babbo gli portava la 126 gli dice vatti via te bianabarallisi a te Agnelli con su Ganguru che è chiaro fanno lavoro guarda il trauto che sta un metro poi con una smonda alternatoria e cose ci trova più gli dice vatti via con su Ganguru che pigliano a barallisi a te Agnelli che non è? stamattina hai detto che la voglia venne? si è offesa si è offesa si è offesa dai che parte dai che parte dai che parte guarda che puzza di benzina partita partita brum 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 cretini in due no Luci uno no tutti in due america fatte una virretta mettete la sede va a prendere la fulgata e vengo a prendere allora e amen riflettiamo perchè vuoi ci vuoi fare i coglioni? eh ma Dio buono della madonna c'è un'elettricista c'è un altro c'è un altro c'è un'elettricista posso averle vendere la bobbina? uno ha pagato l'energia eh altro non c'è posta però perchè non ha sfiammato ma che c'è l'asso in metano adesso? ahahah ahahah beh tu indi ahahah se uno sfiamma manco questa porco Dio se non c'è la deve dare correndo qui se sfiamma solo Roberto quando mangia pizza qui altre fiamme ne vedo non c'è un'elettrici